Educare le nuove generazioni, responsabilizzarle al rispetto dell'ambiente nei piccoli gesti, dalle cicche di sigarette all'uso della bicicletta alla differenziata. Perché parlare di ambiente, di tutela della biodiversità del nostro territorio, significa parlare anche di legalità, come ricorda l'articolo 9 della nostra Costituzione. La platea dei giovani è quella degli studenti del Liceo de Sanctis di Manduria. Ogni persona singolarmente deve essere soggetto attivo di una tutela dell'ambiente e del territorio. Deve essere a cuore anche delle pubbliche amministrazioni, delle collettività. L'abbiamo voluto in questa sede perché attraverso gli studenti e il mondo scolastico abbiamo diffuso la cultura del rispetto dell'ambiente. I risultati passo passo si stanno raggiungendo. Quello della bandiera blu sicuramente è un traguardo importante che non è la fine ma è un inizio per continuare su questa strada. Sicuramente lunga e tortuosa. Proprio qualche giorno fa sono stati scoperti, grazie alle indagini delle forze dell'ordine locali, l'illecito smaltimento dei rifiuti tra Castellaneta, San Giorgio, Marina di Ginosa e Faggiano e lo sversamento dei rifiuti in acqua nel capoluogo ionico. La stessa Manduria che raccoglie rifiuti di gran parte dei comuni limitrofi è in battaglia per impedire l'ingrandimento della discarica incontrata alla Chianca. Vogliamo che questo territorio che ha dato molto per questi impianti adesso cominci a essere più rispettato. Perché bisogna far capire alla politica che la sensibilità c'è e non c'è disponibilità a passare sopra determinate cose. Grazie.